3, 2, 1 Cari amici romani e non, siamo pronti, eh? Proprio qui a Roma, nella capitale, il 10 dicembre, Miss Ausonia 2011 Ore 21 al Gilda, quindi non potete mancare, eh? Perché le ragazze sono pronte, gli ospiti sono pronti e io sono pronta! Anch'io sono pronta! Francesca Abrienza, presenti Miss Ausonia? Sì, anche tu, Dario Nanni, presenti Miss Ausonia Però arrivi sempre in ritardo, perché ho già detto tutto io Come tutto! Quindi che cosa avresti da dire di più? Che ci vediamo in diretta su questa rete? Vi aspettiamo, eh! Miss Ausonia 2011!